Il 21 maggio del 1846 nasceva a Parigi Luc Olivier Merson. Studiò all'Ecole des Beaux-Arts sotto la guida di Isidore Pille, un pittore di gusto orientalista che fu tra coloro che affrescarono l'opera Garnier. Merson vinse il Prix de Rome nel 1869 con questa tela, che raffigura il soldato di Maratona, un'opera preceduta da numerosissimi studi preparatori dei singoli dettagli e dell'espressione dei personaggi. Ecco, l'artista apprende della sua vittoria nell'agosto di quell'anno. La composizione a fregio, con al centro protagonista, l'equilibrata suddivisione della luce e delle ombre, la correttezza del disegno, la finezza del colore, insomma i sentimenti elevati. L'artista quindi corrisponde appieno ai criteri e alle aspettative della giuria. Nel dicembre del 1869 lascia dunque Parigi e la famiglia per recarsi all'Accademia di Francia-Roma. Il viaggio dura un mese, un mese esatto, avendo seguito con scrupolo il cammino previsto dall'architetto Charles Garnier che proprio in quello stesso 1869 aveva pubblicato il suo itinéraire de voyage de Paris a Rome, de die ou pensionnaire dell'Académie de France a Rome. Ecco, la trasversalità delle commissioni che gli giunsero è anche espressione, ovvio, della sua versatilità e del suo notevole talento artistico, che è erede di una lunga tradizione di metodo e di prassi. Fu illustratore di opere letterarie, tra cui anche un'edizione di Notre-Dame de Paris fornito di dettagliate litografie. Peraltro la Maison Hugo di Parigi è una sua tela, quella che sto mostrando, con Esmeralda e Quasimodo dipinta nel 1903. Merson decorò anche numerosi edifici pubblici parigini di grande livello dall'ufficio del vice direttore della Sorbona, dietro impulso del presidente del consiglio Jules Ferry, che decise la ricostruzione e l'ampliamento dell'università, che a quel tempo risaliva ancora al cardinale Richelieu. I cartoni sono oggi a Nantes, quindi si possono trovare facilmente anche online. Poi fornì modelli per le decorazioni dello scalone dell'Hôtel de Ville con figure allegoriche femminili. Tra le ultime opere significative sono i cartoni per i mosaici della Chiesa del Sacro Cuore di Parigi, il cui contratto venne stipulato il primo gennaio del 1912, l'anno in cui per esempio Picasso dava avvio alla fase sintetica del cubismo mediante l'inserimento del collage nelle sue opere. Merson invece andava in tutt'altra direzione e recuperava, nel Sacro Cuore, schemi iconografici derivati ad esempio dalla pietà di Villeneuve-les-Avignons di Enguerrand-Quarton del XV secolo.